Siamo tutti accolti dalla parola del Signore, siamo in tanti però ci aiutiamo a vivere con semplicità e in ascolto la parola del Signore. Alcuni sono proprio nuovi, sono la prima volta che sono qua, si sentono subito a casa. Forse là sull'altare, guarda, trovate posto anche per i bimbi, qualcuno che aiuta a condurli, non c'era. Ecco c'è anche, insieme ai tanti che spesso è così, però c'è un gruppo di giovani coppie, come vedete anche con un paio di loro bimbi, sono dalla parrocchia di San Vito al Giambellino di Milano con il loro parroco che è Don Antonio e faranno una due giorni qui un po' del loro incontro. Poi mi piace dire che ci sono anche cinque amici di Bergamo, ci sono quattro giovani che cominciano da oggi a fare giornate di esercizi perché martedì sera il loro vescovo di Bergamo li ordina diaconi. Quindi insieme con loro c'è Don Gianni che è il loro padre spirituale, però cominciano il loro momento insieme a noi, facendo insieme questa opportunità di ascolto. E allora come sempre, andando a vedere nei giorni scorsi che cosa ci hai regalato Signore, qual è stato il tuo dono per noi? E quando poniamo la domanda così ci diventa naturale che il cuore si riferisca a quel dono, cioè il dono della parola del Signore. C'erano anche tra i brani dell'Apocalisse che diventavano preghiera, anche un testo diretto ad una chiesa. Prima di cominciarlo è il nostro momento di ascolto, ora lo ascoltiamo questo testo. Colizzi e Sergio. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un'infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui. Cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. Anche abbastanza breve il testo, ma certamente una pagina forte. Credo comunque anche capace, molto capace stamattina di esserci di aiuto, di favorire quello che è la ragione per la quale convergiamo poi il sabato mattina. Appunto, perché abbiamo siete desiderio della parola del Signore. Ora, vorrei aiutare poche cose semplici, ma perché questo testo diventi preghiera, diventi dialogo con il Signore, diventi anche sguardo sulla nostra vita, accolga le domande sapienti, che un testo così ci regala. E forse notiamo, c'è sempre, perché sono le sette lettere alle sette chiese dell'Apocalisse, noi evidentemente ne abbiamo scelta una soltanto, ma hanno sempre una struttura identica. E forse richiamarlo qui già ci aiuta a entrare e incominci subito a dire, ma forse sta scrivendole anche a noi, alla chiesa di oggi, alla chiesa del Giambellino di Milano, alla chiesa di Bergamo, alle nostre chiese, il Signore, le lettere e lo Spirito che ci parla. Quindi questo è un testo che prende, avverti che non è una missiva generica, una comunicazione fatta così, è una parola destinata a, ed è lo Spirito che parla alle chiese. All'inizio, dopo aver detto qual è il destinatario, questa è la chiesa di Laodicea, c'è sempre la presentazione di Gesù, notiamo, lo presenta come l'amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Pio. Ogni lettera ha questa presentazione singolarissima e splendida di Gesù. Siamo a tu per tu con Lui nell'ascolto di questa parola. Il nostro non è un ascoltare da soli e isolati, è un ascoltare mentre siamo insieme, in tanti, come chiesa del Signore, ma insieme a Lui, il principio della creazione di Dio, dice il testo. Coraggio, coraggio, andate, andate, trovate posto. E qui comincia la parola concreta detta a quella chiesa, in questo caso è la chiesa di Laodicea. E su questo evidentemente ora torneremo, ma mentre dice queste parole severe e insieme bellissime e comunque incoraggianti, non hanno il tono della sentenza, ma hanno il tono dell'augurio, prendono per mano, aiutano a fare dei passi. Tutto questo però ce lo dice anche comunicando il come ce lo dice. Ce lo può dire dall'alto in basso, facendo di sentire dei poveretti, o ce lo può dire con un atteggiamento ben diverso. Pensate solo a questa frase. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li castigo. Ma allora ci parli perché ci ami. Eh, questa è una cosa tutta diversa. tu sei già in una situazione di ascolto e di dialogo assolutamente singolare. Questo non è uno che ti rimbrotta, ma perché ti ama. Eh, dice parole che sanno scuotere, toccare con mano. E la finale è sempre una promessa, e in questo caso davvero splendida. ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui, e degli con me, e poi lo riprenderemo. Ecco, sempre questi passaggi, proprio come una lettera vera, è vera, a chi la scrivo, chi sono io che te la scrivo, e cosa vedo in te mentre ti mando queste parole e come ti incoraggio dicendoti queste parole. E allora, vedi sullo sfondo, se camminerai così, c'è qualcosa di splendida. Queste parole finali dalla promessa, anche in questo caso, per noi stamattina, sono parole di una bellezza davvero unica. Allora, tentiamo di aiutarci, di entrare un poco in tutto questo. Avanti, avanti, vai, vai su, vedrai che ti aiutano a trovare qualche posto. non c'era. Ed è questo passaggio davvero tra i più duri in assoluto del Nuovo Testamento. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo. sto per vomitarti dalla mia bocca. Mamma mia! Fortissima questa parola. Altro che scuotere. Ma ci entriamo. Anche perché, ho detto, ce la dice questa parola, uno che ci ama. E allora, allora io non mi faccio pretare dalla paura. Se è uno che mi ama, mi dice delle parole che sono un bene per me. E allora mi ci metto in ascolto. Tiepido. È la parola che ci interroga e che sta stimolandoci questa mattina anche a fare verità su noi stessi. non sei né freddo né caldo. Ora, cosa vuol dire questo riferimento al tiepido? Questo è davvero un interrogativo che subito ti raggiunge e che stimola anche la voglia di fare verità. A me pare, e qui, sapete, quando arrivo a queste parti della meditazione, penso alle persone. Certo, penso alla parola, ovviamente. A questa parola che riceviamo dal Signore. Ma poi, penso a noi, alle nostre paure, alle nostre fatiche, ai nostri passi buoni, al nostro sguardo di futuro. Quindi, questa parola la facciamo incrociare con qualcosa che è profondamente nostro, è parte del nostro vissuto. E qui, non facciamo fatica a dire, ma questo è un riferimento a non accettare di stare in una vita grigia, dove il grigio non è il colore, ma è l'assenza di passioni forti. Quelle che ti fanno dire so perché vivo e per chi vivo. Questa è passione forte, questo non è tiepido. Uno che ha dentro, nel cuore, coltiva una passione forte non sarà mai uno tiepido. così come questa parola non sei né caldo né freddo ti fa venire in mente anche la possibilità che ci siamo consegnati e ci consegniamo a una vita di routine subendola, un po' da rassegnati magari, comunque senza uno slancio che l'attraversi dall'interno. questo e lo dico sempre con molto rispetto perché qui ci sono fatiche e sofferenze e croci quindi mi guardo bene dal giudicare però dico no, non è bello un sentiero così questo è davvero una ingenuità immaginare che la vita possa essere semplicemente subita con il suo trantram di ogni giorno tu sei vivo tu sei una persona viva tu hai un nome un progetto un perché hai un legame hai un amore hai una passione che allora questa parola ci sta dicendo davvero non andiamo ad accasarci in questo modo davvero il nostro sia un passo prezioso autentico svela anche una possibile ragione il testo quando dice che lo abbiamo sentito tu dici sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla eccolo qui forse uno dei rischi che dopo ti fanno diventare tiepido ti fanno subire la vita è l'autosufficienza non ho bisogno di nessuno sono ricco non ho bisogno di nessuno lavorosa ingenuità come posso dire quando parlo con il Signore che ho tutto ma più facilmente Signore tu sei uno che ha tutto anzi tu sei tutto Signore io francamente sono un povero faccio quello che posso e quello che riesco ma sono un povero e quindi svela il testo una delle possibili ragioni che poi possono condurre ad una vita insignificante senza sapore senza coraggio senza slancio e allora a fronte di una parola così tu non hai voglia semplicemente di subire quanto il Signore ti ha detto ma voglia di ospitarlo e dire Signore ma allora con questa parola che posso fare nella mia vita che passi mi sarebbero anche alla portata reale quali i contesti da smuovere quali gli atteggiamenti da purificare quale il modo per riscaldare il cuore perché non viva semplicemente subendo una vita e questo non lo dico semplicemente io ma accorgete c'è consiglio vi do questo consiglio riconosci la tua radicale povertà è liberante questo quando sei a tu per tu con il Signore è liberante quando li puoi dire e li sai dire e lo fai con estrema sincerità Signore io capisco tu sei grande fortunatamente sei Signore ma io sono proprio piccoletto sono uno proprio povero mi sbagli e ne ho fatti tanti forse ne farò ancora c'è qualcosa che non ho superato c'è qualche problema che non ho risolto c'è qualche solitudine che mi appesantisce ecco questa capacità di entrare questo è già un segno di uno che ha finito di fare il chiepito ha finito se accoglie un consiglio così e arriva a dire a se stesso e al Signore io sono davvero dentro una radicale povertà e fa un passo davvero prezioso così come non accetta di confrontarsi solo sull'apparire ma vuole comportarsi sull'essere non sull'apparire non sulla facciata ma sul cuore sul cuore della vita sull'interno del proprio spazio di libertà bellissimo questo consiglio e chi te lo dice ma te lo dice uno che trasparentemente ti vuole bene e che dice ma guarda che la tua catena che ti tiene fermo e bloccato è di questo tipo e perché non la sleghi e perché non te ne liberi e perché non riparti e questo a me pare davvero una consapevolezza profonda ci si rifugia nell'apparenza mentre in realtà siamo dei poveri signora dice il testo totale ludità perché sto parlando con te signore della storia e signore della vita signore che sei vicino che sei accanto ma sei il signore sei il signore e questo non è una frase che ti umilia è una frase che ti rimette in piedi e che ti dice guarda lui che è così grande ha cura anche per un piccino come me per un povero come me tu sei grande signore e allora dammi quel collirio che mi lascia vedere bene e stamattina questo può essere una preghiera bellissima no? dammi la capacità di vedere dentro signore a che punto sono chi sono cosa è diventata la mia vita qual è stato ed è il mio cammino è davvero vedi una pagina che scuote immediatamente quando davvero tu termini di ascoltare una parola come questa e l'hai davvero ascoltata vuol dire ti sei già messo per strada stai già cercando e questa è una cosa di enorme bellezza e importanza uno qui ha già lasciato il rischio eventuale della tiepilezza l'ha lasciato totalmente alle spalle totalmente ha già cominciato da semplice con i primi passi se vuoi oppure ha ritrovato comunque il coraggio di smercarsi dalla situazione in cui di fatto era quando questa parola l'ha raggiunta la capacità di parlarci della vita e di parlare di noi nella tua parola signore è sempre straordinaria e grande chi di noi adesso non è già dentro questo dialogo questa è una parola che parla di noi anche e della nostra vita e se poi chi ce la dà questa parola non ha la toga di un giudice ma il cuore di un padre è solo dono no? è solo grazia e anche un sabato qualunque di fine ottobre può diventare uno spazio reale di grazia e di vita notiamo l'ultima cosa del testo lo splendore di questa bellezza e questa promessa lo splendore immagine ognuno ognuno pensa anche alla propria casa a ciò che di più caro ha dice ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò da lui cenerò con lui ed egli con me questa è una parola bellissima questo è il Signore sto alla porta io sto alla porta e busso se uno apre io entro entro e starò e cenerò con lui sembrano simboli inimmaginabili se tu le rapporti a Dio ma questa abbiamo ascoltato è quello che questa pagina questa mattina davvero ci dice cosa di straordinaria bellezza faccio una piccola parentesi a che mi ha raccontato una volta un amico giornalista proprio su questa pagina dice e probabilmente evidentemente diceva perché l'aveva sentito dai presenti che è stata una parola decisiva nel momento del conclave in cui sarebbe stato poi eletto Papa Francesco perché il Cardinale di Cuba che era molto amico del Cardinale Bergoglio era rimasto commosso commosso dalla parola che Bergoglio aveva detto ognuno aveva tre minuti e allora lui ha fatto il suo piccolo intervento partendo da questo testo e dice quante volte ci avrà aiutato dopo questo testo è diventato noto perché il Cardinale Ortega non ha saputo tacere tanto non è un particolare segreto del conclave questo ha citato l'Apocalisse è parola di Dio la citiamo anche per noi questa mattina quindi era perfettamente lecito parlare ma lui aveva fatto l'intervento dicendo questo testo stamattina io sento che lo possiamo tutti noi Cardinali che siamo qui in conclave leggere anche mettendoci dall'altra parte sto alla porta e busso ma il Signore è già tra di noi allora non potrebbe voler dire questo testo sto alla porta e busso lasciatemi uscire è bellissimo questa cosa è bellissimo e il Cardinale di Cuba che era seduto vicino a Bergoglio quando lui è venuto gli ha chiesto il testo e Bergoglio gli ha chiesto gli ha detto e non ce l'ho ho parlato così come vediamo che fa molto spesso ma la mattina dopo gli portò un fogliettino sai nostri quaderni fogliettino con quattro righe erano per quattro punti il terzo punto era ecco sto la porta e busso solo che lui si era commosso questo suo amico Cardinale a sentire leggere un testo lasciandolo vero per quello che è ma situandolo in quella condizione singolarissima di chiesa dopo mi diceva questo amico quello che è proprio vero non ti ho contato una storia tant'è che dopo questo testo è stato reso noto era brevissimo no? e forse non è stato ininfluente questo intervento di Francesco per i suoi amici che stavano ascoltando in quei giorni trepidi dove si tratta di alleggere il futuro Papa ora questa era una sede solenne noi non ci andiamo a un conclave siamo un gruppo di gente semplice a Cuceredo a mille metri fuori un po' dal mondo ma bello però quello che sta alla porta e busso è lui non è un altro è la porta è la porta di casa nostra non è un'altra porta e questo mi sembra davvero di singolare bellezza e mi chiedo andando ad agio ad agio verso il termine e mi chiedo questo testo vedi lo puoi leggere e pregare sentendoti solo bellissimo giusto però lo puoi pregare e ascoltare sentendoti coppia sentendoti casa sentendoti gruppo sentendoti comunità mamma mia che bello sta alla porta per bussare se uno apre io entro e ceno con lui anche sentirsi mondo nei confronti di un Dio che non vuole fare l'estraneo non sta sulle gradinate lontano a vedere scende abita la nostra storia sto alla porta di busso e allora anche questo per la nostra riflessione di stamattina potrebbe essere davvero qualcosa di molto importante di molto bello di molto umile anche però uno subito dice caspita qui non ho mica perso tempo meno male che c'è anche una mattina così per noi oggi dove il Signore ci viene vicino in questa maniera ora davvero immagino che cosa voglia dire una parola così quando magari uno o un gruppo o persone o noi ci sentiamo anche in una condizione difficile in una condizione di deserto e e allora ti sembra magari improponibile questa parola del Signore io non riesco a stanarmi da dove sono io non ce la faccio a cambiare voltaggio e avverto di non avere più l'ardore e l'ardire di rimettermi in questione e allora allora un testo così guarda ti può fare un bene dell'anima e perché dici che non puoi chi ti dice che è impossibile ed è implacabilmente vero che tu rimanga in una situazione di deserto o di impasse in una situazione dove stai a margine e non ti appassioni di niente e di nessuno e invece invece è possibile un passo così e questo testo te lo fa diventare possibile perché ti invita ma prova a vedere quali sono le passioni più profonde del tuo cuore e della tua vita e questo prova a vederlo anche assieme magari alle persone cui più vuoi bene prova a vederlo stando a tu per tu con il Signore prova a chiederti che cosa c'è dentro ti liberi dalla pietidezza davvero non è una cosa miracolosa all'istante ma ti accorgi di poter dire con serenità no io non voglio continuare a vivere così non voglio la mia vita ma deve essere più bella più vera più autentica e questo a me sembra davvero un passaggio estremamente importante no e tante volte perché non a caso dico questo persone veramente brave cui non si può che voler bene proprio ti confidano non raramente anche l'amarezza di sentirsi spenti rassegnati non ce la faccio più a ripartire non ce la faccio più e poi nella condizione in cui sono non vedo appigli se c'è una parete e vedi degli appigli puoi anche usare ma se è tutta liscia e non ti viene neanche in mente di usare non ce la fai a partire davvero con dei passi e allora sembrerebbe implacabile una sorta di giudizio che ti senti addosso sei così accettati punto e basta questo testo non ti consente di fare con pace una conclusione così se la fai questo testo ti contesta senza fare battaglie senza offendere semplicemente dicendoti che cosa io vedo di te che cosa io vedo possibile di te e ti chiede e ti dice sto alla porta e busso se tu apri io entro e cenerò con te questa è una cosa davvero importante e preziosa e quando è stato proprio un po' ieri sera un po' stamattina presto quando mettevo a fuoco un po' l'ultimo pensiero per la meditazione e mi è venuta e allora ve la dico una piccola esperienza fatta da lontano di per sé telefonicamente ma che mi ha profondamente segnato nella vita e lo riconosco ce l'ho dentro questa cosa e quindi quando parlo con le persone quando sento anche le fatiche mi accorto di averla dentro nella forma più breve e semplice possibile forse un po' tutti conosciamo o sappiamo comunque che esistono quelle fraternità che si chiamano di piccoli fratelli e di piccole sorelle di Charles de Foucault no? proprio gente che vive nei contesti magari anche molto deserti vive in una condizione povera semplice di vita umile stando accanto stando accanto ora Charles de Foucault appunto era stato il loro iniziatore sta diventando sempre di più una figura che continua a parlare alla chiesa di oggi ma c'era stato dopo di lui ma è diventato una figura di riferimento come educatore di questi piccoli fratelli piccole sorelle poi dopo avrebbe seguito soltanto i piccoli fratelli e la sorella MacGlain avrebbe seguito le piccole sorelle ed è padre vuoi o quel suo libro forse non l'abbiamo se lo vedeste nella casa del vostro paroco o del vostro prete aspettato non lo leggerà più portatoglielo pure via è come loro si intitola come loro ha scritto un libro bellissimo in uno in un libretto o altro scritto mi dice vedi quando tu sei io ho imparato nella mia vita a riconoscere che quando tu sei nella sincerissima situazione di chi dice non ce la faccio non ce la faccio non hai solo due strade la prima getto la spugna e mi divento non lotto più la seconda è mi arrancio così è troppo prendo una mezza misura galleggio vado avanti ma non ce la faccio più di così no c'è anche una terza soluzione e io queste parole ce le ho dentro proprio come le parole che non so penso il Signore attraverso questa strada il padre le ha dette poi a me no c'è guarda che c'è una terza strada che proprio perché quando sei convinto di non potercela fare e di non sapercela fare tu puoi semplicemente far venire a galla una parola di Vangelo nulla è impossibile a Dio con questa parola prova a riaffidarti al Signore questa cosa confesso ma fu l'binato tant'è che ma io ero convinto in quel momento stavo aiutando il cammino di tanti giovani preti alcuni sono qua e e quindi la mia vita era un po' quella no ma poi la mia vita perché anche io mi sentivo messo in questione no e io ero convintissimo che padre Vuoyon fosse morto perché aveva già abbondantemente superato i 90 anni da diversi anni e infatti mi hanno detto ne aveva 96 solo che sono passate dal luogo dove io vivevo sono passate tre giovani donne piccole sorelle allora volevano vedere chiedevano cosa si fa di bello se potevano sentire o incontrare il Cardinale Martini mi dicevano queste cose molto semplici a un certo punto da loro parlare io mi sono accorto che parlavano di Vuoyon ma da vivo come se fosse vivo io evidentemente mi sono guardato bene dal dire ma io pensavo che era già morto no volevo fare questa figura però l'avevo davvero pensato quando ho capito questo gli ho detto ma io potrei chiedere la maniera di raggiungerlo per telefono perché avevamo iniziato da qualche mese un'esperienza bella proprio bella che poi è andata avanti sta continuando anche ora scuola pratica di accompagnamento spirituale scuola pratica di accompagnamento spirituale e venivano in tanti preti, religiosi, laici no però tutte persone che accompagnavano o altre no e allora all'inizio di ogni anno la prima volta l'avevo chiesto al cardinale Martini ce l'aveva fatto lui bellissimo per incoraggiarci dicendo questa è una cosa bella ha fatto davvero lui quella che si chiamava la prolusione io volevo chiedermi ma uno che scrive queste cose che scrive le parole che vi ho detto vuol dire che è uno che accompagna perché altrimenti queste cose non ti sogni neanche di scriverle e allora se gli chiedessi di venire io ho fatto la telefonata l'ho trovato l'ho trovato poi in francese poi in italiano ma ce la cavavamo no? e soprattutto lui capiva molto bene poi cercavo anch'io di farmi capire e a giro dovuto mi ha veramente commosso perché io gli ho detto guarda stiamo facendo una cosa bella poi ho letto questo tuo libro sulle strade del mondo come loro che ho detto è il libro più importante di voi sulle strade del mondo era un libricino no? e allora ho proprio visto che che se tu scrivi così vuol dire che proprio la tua vita di accompagnare il cammino di altri ti ha segnato profondamente perché non vieni a parlarci di questa esperienza esperienza eh non ti chiedo una conferenza togata no un'esperienza non mi aspettavo la risposta perché lui mi ha detto io sono molto commosso di questa domanda come dire gli ho fatto un dono ma dopo mi ha detto e lì sono rimasto ghiacciato e commosso mi ha detto vedi ma questo è il clero di Milano è il clero del cardinal Martini io avrei voluto anche dirgli perché il clero del cardinal Martini è come quello di tutti gli altri eh non c'è ci abbiamo anche le nostre magagne eh eh il nostro vescovo è bravo ma però non dicevo niente evidentemente e allora io l'idea di parlare a loro non ce la faccio vedi io oramai sono cieco non posso più scrivere i miei appunti e allora mi commuovo e perderei il filo non ce la faccio era franco era come se fosse venuto per me era come se fosse venuto perché mi diceva quelle parole sono proprio vere ma io non ce la faccio a parlare perché se poi so che ci sono tanti giovani preti tanti giovani tante coppie che stanno ascoltando io mi commuovo e se mi commuovo perdi il filo e allora e allora dopo non riesco a dire quello che invece mi piacerebbe dire bellissima questa cosa e questo accompagnava gente che viveva in contesti di deserto in situazioni difficili quella frase che ho citato che c'è anche una terza soluzione oltre quella del gettare la spugna è quella di andare sulla mediocrità è uno che dopo questa cosa l'aveva imparata vivendo e accompagnando ecco mi è venuto in mente mentre sto pensando non mi sembra un pensiero del diavolo questo viene piuttosto dello spirito questo no? e soprattutto è una cosa vera avere un uomo bravo di cui sono grato di poter parlare perché ha fatto un bene enorme a tante persone con la sua semplicità e con la sua umiltà ecco questo ti dice non diventare mai tiepido se ti capitasse esci ne esci ne lo puoi fare questo mi sembra una cosa davvero preziosa ci fermiamo qui buona preghiera quest'oggi è è è qui